Ciao, io ho già comprato da voi una cassetta con Tainted Love nella versione di Gloria Jones. Volevo sapere se avevate anche quella dei Soft Cell. Invece di New Romantic, che mi consigli? Allora, per la prima cosa che hai chiesto non ci dovrebbero essere problemi. Mentre per quanto riguarda… Avalon, Roxy Music. E che consiglio è Avalon? È troppo banale. A me serve il consiglio di un esperto. E allora, true, decisi quando ballè. Oddio, ora mi dirai Rio dei Duran Duran. No, invece stavo per dire Forever Young degli Alphaville. Sicuro, non Do You Really Want To Hurt Me dei Culture Club. Allora, Vienna, Ultravox. Tu sai allora. Eh vabbè, te la sei cercata. Medward, Tears for Tears. Non la conosco. Eh, non la conosci perché è a metà tra la New Romantic e la New Wave. Se ti piacciono i brani New Romantic ti piaceranno sicuramente anche quelli della New Wave. Comunque, se vuoi te li metto in coda la cassetta, così poi li ascolti. Va bene. Ma se non mi piacciono, torno e me la rifai. Mamma mia, non mi scasso, cazzo che è sto. Eh, comunque faccio insieme. faccio insieme. Grazie.